Sonia era una bella persona e non meritava di morire così, parlano le colleghe della 47enne di Petacciato trovata morta in Lussemburgo, il compagno dovevamo sposarci, oggi l'autopsia, si valutano le immagini della videosorveglianza, l'ipotesi più accreditata è la rapina finita in tragedia. Per mesi ha minacciato i cugini sino a giungere ad incendiare la loro auto, parcheggiata sotto casa a Monte Roduni con l'accusa di atti persecutori. I carabinieri hanno arrestato un giovane stalker, denunciate l'invito della procura alle vittime, solo così possiamo intervenire. Weekend di Pasqua, migliaia di turisti a Castel San Vincenzo, un buon segnale in vista dell'estate, siti archeologici e centri storici hanno fatto registrare il tutto esaurito. Collegare il quartiere Santo Stefano alla Fondo Valle Rivolo ha paltato i lavori di uno dei progetti del CIS di Campobasso soddisfatto il sindaco Roberto Gravina. Campobasso parte la raccolta differenziata a Vazieri, Cretella entro l'anno in tutta la città, in Consiglio Comunale ha approvato il piano economico finanziario, critica l'opposizione, non c'è una visione d'insieme, attacca Chierchia. Infine allo sport il calcio di Lega Pro, domenica ultima stagionale per i rosso-blu del Campobasso, alla Romagnoli di Scena il Potenza, ma a tenere banco è il futuro dell'allenatore Cudini e del DS De Angelis. Buon pomeriggio, ben trovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso, tante notizie nel nostro telegiornale, ma in apertura, l'avete sentito dai titoli, torniamo ad occuparci della storia di Sonia, una 47enne di Petacciato trovata morta in Lussemburgo. Era una bella persona e non meritava di morire così. Parlano le colleghe della donna che è stata trovata morta, come vi dicevo, in Lussemburgo. Oggi l'autopsia sul suo corpo, ma gli inquirenti valutano anche le immagini della videosorveglianza. L'ipotesi più accreditata è la rapina finita in tragedia. Sentite tutti i particolari dal servizio di apertura. Chi ha ucciso Sonia Di Pinto è perché gli inquirenti lussemburghesi sono al lavoro per fare piena chiarezza sul decesso della 47enne di Petacciato, trovata senza vita nel semi interrato del ristorante-pizzeria della catena da Vapiano, dove lavorava come responsabile di sala. Sul corpo della donna, rinvenuta la mattina di Pasqua, i segni di un forte colpo alla testa. Non me l'hanno fatta vedere, mi hanno solo detto che un gran colpo le ha fracassato il cranio, ha detto a Lanza il fidanzato Sauro Diogenici, che ha dato l'allarme e che poi aggiunge era una persona tranquilla, faceva il suo lavoro e lo faceva bene. Convivevamo da cinque anni, ci saremmo dovuti sposare il 14 maggio. Lei era solita rientrare tardi quando io già dormivo. Ieri al mio risveglio non c'era. Ho pensato fosse uscita. Aspettavamo amici a pranzo. Invece l'hanno uccisa. Si indaga per omicidio. L'ipotesi più accreditata è quella della rapina. Sonia sarebbe stata colpita mentre depositava 3.000 euro in una sorta di cavo. L'autopsia fornirà indicazioni preziose al pari dei filmati delle telecamere di sicurezza presenti nel locale e nel quartiere. Due comunità sotto shock, quella di Petacciato, dove Sonia era nata e aveva trascorso gran parte della sua vita, e quella lussemburghese, dove si era fatta apprezzare per la sua gentilezza e dedizioni al lavoro. È stata lei a formarmi racconta Lucie, una collega al quotidiano, l'essenziel. Ricordo il suo bel sorriso. Non meritava di morire così. È triste. Era una persona adorabile con cui ho lavorato per molti anni qui e in Italia, ha aggiunto Francesca, ex collega. Non abbiamo parlato molto ultimamente, ma quando ho sentito la notizia non potevo crederci. Non è giusto. Spero che giustizia sia fatta. Ancora la cronaca. Per mesi ha minacciato i cugini Sino a giungere ad incendiare la loro auto parcheggiata sotto casa a Monte Roduni. Con l'accusa di atti persecutori, i carabinieri hanno arrestato un giovane stalker. Denunciate l'invito della procura Nicola De Santis. Per mesi ha perseguitato i cugini Sino ad arrivare a dar fuoco alla loro vettura. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Venafro hanno arrestato e trasferito ai domiciliari un ragazzo che per mesi ha minacciato e molestato i due parenti Sino all'attentato nei confronti della loro auto parcheggiata nei pressi della casa dove vivono a Monte Roduni. L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sernia dopo le indagini coordinate dal procuratore della Repubblica Carlo Fucci. L'attività investigativa dei carabinieri ha permesso di raccogliere nel giro di pochi giorni elementi sufficienti per richiedere l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare concessa senza indugio dal GIP del Tribunale di Sernia ed eseguita celermente per evitare che il giovane potesse proseguire nella sua azione persecutoria. Intanto, in attesa dell'interrogatorio di garanzia, le indagini proseguono. Questa vicenda, dichiarano i vertici della Procura Pentra, mostra ancora una volta l'importanza di una immediata e circostanziata denuncia da parte di chi è vittima dei reati di stalking prima che questi giungano ad una escalation difficilmente arginabile. Nel caso di specie le vittime non avevano mai presentato querela per le minacce subite sino ai gravi episodi intimidatori in seguito ai quali le autorità hanno potuto agire a loro tutela. Ha concluso il dottor Fucci. Ancora la cronaca ma andiamo a San Salvo. Un bambino è precipitato dal secondo piano di un'abitazione sul posto. È intervenuto l'elisoccorso oltre ai sanitari del 118 e dai carabinieri. E' riaccaduto questa mattina intorno alle 11 in via Cicerone. Il bambino di otto anni è stato trasferito a Pescara. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Adora cambiamo decisamente argomento. Migliaia di turisti a Castel San Vincenzo per il weekend di Pasqua ci racconta tutto nel suo servizio ancora Nicola De Santis. Sentite. Il giorno di Pasquetta ha fatto registrare il tutto esaurito sulle sponde del lago di Castel San Vincenzo. Nonostante il clima fresco ed un vento incessante migliaia di turisti provenienti dal Molise ma anche dalle regioni limitrofe hanno scelto il bacino artificiale per trascorrere le festività pasquali. Noi abbiamo dormito qui quindi oggi restiamo qui tutta la giornata al parco e poi ritorniamo a Napoli in serata. E' un posto magnifico, un po' ventilata. Però è un luogo stupendo. C'è una bellissima giornata di sole, un po' il vento però speriamo che prima non c'è, che si calmi. Eh sì, finalmente ci siamo quasi liberati di questo fardello. I bambini giocano all'aperto e la giornata, tranne un po' di venticello, permette perché c'è il sole. Cercheremo di girare un po' in canoa anche se il vento è, c'è parecchio vento, insomma esploreremo un pochettino. Non solo il lago è stato preso d'assalto dai turisti, anche i siti archeologici nei dintorni, i ristoranti, i centri storici della Valle del Volturno hanno visto migliaia di presenze. Un segnale decisamente incoraggiante in vista della prossima estate con il Molise che si candida ad essere una delle mete più ambite della penisola. Oggi c'è grande afflusso di visitatori, siamo molto contenti di questo, abbiamo già fatto diversi servizi di visita guidata, sono rimasti tutti estasiati da questo sito e un po' meravigliati dal fatto che purtroppo fosse aperto soltanto un giorno a settimana, quindi auspichiamo che ci sia possibilità di visita maggiore, di più giorni a settimana per questo sito perché c'è grande richiesta. Interessante, un posto davvero bellissimo, un'ottima organizzazione e viva il Molise. Sì, siamo ad Aversa, siamo tutta una comitiva, bellissima, interessantissima, la guida è molto utile, ci è servita, poi il luogo è bellissimo da visitare. Siamo ancora all'inizio però sicuramente c'è molto da vedere, c'è tanto da vedere anche di fronte all'abbazia, andremo, una bella esperienza, veramente bello il Molise. È una bellissima esperienza anche perché è una zona che in genere non si visita, quindi abbiamo avuto l'opportunità di vederla e apprezzandola sicuramente parleremo, faremo molta pubblicità perché merita veramente, è stata una bella scoperta. Guarda, è stata un'esperienza molto ricca di cultura, è la prima volta che veniamo perché diciamo che la terra di mezzo l'abbiamo sempre saltata, è perché abbiamo fatto la Basilicata, le Puglie e questa era la prima. Abbiamo avuto l'opportunità, ci hanno proposto questo viaggio, l'abbiamo fatto molto volentieri, ne è valsa la pena, torniamo sicuramente in Sardegna con un valore aggiunto. Porteremo un'ottima testimonianza, anzi la proporremo d'ora in poi. La nostra è una persona molto esperta, sa trasferire molto bene, credo è molto importante, non è solo conoscere la storia, ma saperla trasferire affinché le persone apprendano veramente con leggerezza la storia, perlomeno io la vedo così. Dunque, presenze record a Castel San Vincenzo, la sindaca Margiotta parla di un ottimo segnale per la prossima stagione estiva, se il buongiorno si vede dal mattino, dice allora ci sono tutti i presupposti perché la prossima stagione estiva possa consolidare l'immagine di Castel San Vincenzo tra le mete più ricercate del Molise. Ce n'è convinta Marisa Margiotta che traccia il bilancio delle festività di Pasqua appena trascorse, durante le quali la località ai piedi delle Mainarde è stata nuovamente presa d'assalto da migliaia di turisti. E la fine dello stato di emergenza ripristina anche la tradizione termolese del martedì di Pasqua, la Madonna a lungo che oggi si è celebrata con un pellegrinaggio dalla cattedrale della chiesa di Maria Santissima della Vittoria in Valentino. Sano due anni di pandemia alle spalle ma lo scenario del 2022 è ancora di sofferenza innanzitutto per la scomparsa recente di padre Luigi Russo che era custode del santuario, poi per lo scenario bellico che si protrae da quasi due mesi in Ucraina. L'ottavo pellegrinaggio della festa Madonna della Vittoria ha preso il via alle 6 in Piazza Duomo con l'arrivo alle 7.45 al santuario della Madonna a lungo, 5 le messe alle 8, alle 9.30, alle 11.30, alle 16.30 con la benedizione dei bambini e alle 18 con la solenne chiusura della festa. Diverse le intenzioni di preghiera per la chiesa, per Papa Francesco, per la pace nel mondo, per le famiglie, per i poveri e gli ammalati e per padre Luigi e per la città di Termoli. Passo in avanti per la Fondo Valle Rivolo per un collegamento tra il quartiere Santo Stefano e la Fondo Valle Rivolo. È un progetto incluso nel CIS Molise. Ce ne parla Andrea Bertolo che ha sentito il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. I lavori sulla Fondo Valle Rivolo partiranno a breve, a dirlo è il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, dopo l'approvazione del progetto che rientra nei fondi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo. Sarà una ditta molisana ad occuparsi della messa in opera di una strada che tirerà via dall'isolamento il territorio di Santo Stefano e contradi adiacenti. Un passo in avanti ha spiegato Gravina lavori che porteranno benefici all'intera viabilità. Sul CIS abbiamo accomunato un po' di ritardi perché mancava la nomina da parte del nuovo governo e quindi mentre sulla Fondo Valle Rivolo l'innesto che collegherà dalla Fondo Valle la frazione di Santo Stefano supereremo quello che è un isolamento di una frazione che insomma è comune di Campobasso ma davvero mal collegata. Quindi venerdì si sono concluse le procedure di aggiudicazione e quindi è una ditta tra l'altro molisana e crediamo che a breve ci possa essere la consegna dell'area di cantiere per poi l'inizio dei lavori. Insomma credo che sia una lavorazione che non dovrebbe incontrare grossi problemi e potremmo finalmente consentire anche a coloro che abitano nella frazione di superare quell'isolamento, di raggiungere anche l'ospedale in tempi sicuramente più veloci. Oltre alla Fondo Valle Rivolo nel CIS rientra anche il progetto che prevede un collegamento tra la zona di Fontanavecchia e il centro storico del capoluogo. La famosa funicolare che tanto ha fatto discutere non ha trovato grande successo al ministero. È stato infatti necessario una rimodulazione del progetto al quale saranno destinati circa 18 milioni di euro. C'era il discorso legato al famoso insomma quello che molti hanno ribattezzato il treno del centro storico che ha incontrato delle resistenze in conferenza di servizio. Quindi stiamo cercando di rimodulare quell'intervento per consentire, ma è ancora presto perché stiamo adesso definendo la parte diciamo progettuale, per consentire un nuovo accesso e una nuova uscita in città, quindi superando diciamo così il blocco di Porta Napoli. Quindi questa è la sfida che adesso vogliamo raggiungere, rimodulando quei fondi e al tempo stesso garantendo con dei fondi, in questo caso provenienti dall'Unione Europea, un accesso diverso al centro storico. Quindi rimodelleremo quell'idea con un altro tipo di sistema di mobilità. 3 milioni di euro per le scuole dell'infanzia e primaria. La Giunta regionale ha approvato la scheda relativa ad un intervento che intende valorizzare la riorganizzazione ed il riadattamento strutturale degli spazi scolastici interi ed esterni affinché risultino idonei ad un utilizzo da parte di studenti e personale scolastico che minimizzi il rischio di contagio e quindi un eventuale ritorno alla didattica a distanza. La dotazione finanziaria dell'azione è pari, come vi dicevo, a 3 milioni di euro. I beneficiari dei finanziamenti sono i comuni della Regione Molise con scuole pubbliche dell'infanzia e della primaria presenti sul loro territorio. Ogni amministrazione comunale potrà presentare un solo progetto esecutivo e l'importo massimo concedibile per ognuna delle proposte progettuali presentate dalle amministrazioni comunali non potrà superare, appena l'esclusione, l'importo di 100 mila euro. Torniamo a Campobasso, nuovo piano economico finanziario per il Comuno è stato votato a maggioranza il documento che prevede anche novità sulla raccolta differenziata che prestissimo partirà a Vazieri, ha assicurato l'assessore Simone Cretella. Bordate invece dall'opposizione, non c'è una visione d'insieme, il commento di Bibiana Chierchia. Sentite ancora Andrea Vertolo. Il Comune di Campobasso ha approvato il piano economico finanziario, un atto che non prevede grandi stravolgimenti rispetto al passato sul fronte dei tributi ma che è detta la linea sulla gestione dei rifiuti anche in considerazione della prossima apertura della raccolta differenziata nel quartiere di Vazieri. A spiegare nel dettaglio le scelte apportate dall'amministrazione comunale l'assessore Simone Cretella. È un atto fondamentale per il normale proseguo della gestione ordinaria della raccolta dei rifiuti in città e tutti i servizi della SEA. Va detto che cade in un momento particolare dove vedremo nelle prossime settimane finalmente prendere via la parte operativa e esecutiva dell'allargamento del sistema di raccolta differenziata in tutta la città. partendo dal quartiere Vazieri, prima la parte bassa, poi a salire verso la parte alta fino alle zone ancora scoperte dell'area urbana, Principe di Piemonte, Via De Pretis per intenderci ma anche Via Garibaldi, Via D'Amato, Via Tiberio, rimarrà a fine anno soltanto da chiudere la zona murattiana che sarà servita però da un sistema diverso dei Mastelli. Come abbiamo più volte detto, prenderemo ad esempio il sistema che stiamo sperimentando su zona San Francesco quindi con delle eco-isole intelligenti, con apertura a tessera che in qualche modo andranno a limitare anche l'impatto paesaggistico all'interno del centro murattiano dove l'allestimento di rastrigliere con una moltitudine di Mastelli probabilmente non sarebbe opportuno. Un atto troppo ordinario e senza visione d'insieme il commento critico della minoranza a votare contro il piano, gli esponenti del Partito Democratico ai nostri microfoni. Bibiana Chierchia. Riconosciamo il lavoro fatto in modo particolare dalla struttura e dall'assessore esterno. Ricordiamo sempre e diamo merito a questo assessore che sicuramente con spirito di servizio lavora per la comunità dei cittadini di Campobasso. Il motivo per cui ci siamo espressi contro, che è stato ampiamente argomentato nel corso delle commissioni consigliarie al bilancio è legato alla mancanza di visione, a quello che ai nostri occhi di amministratori di opposizione appare come una gestione dell'ordinario quando gestione dell'ordinario non può essere un'amministrazione e non può fare un'amministrazione che ormai è in sella da troppi anni per poter così non agire. Cioè scegliere di assecondare, come dire, uso un'espressione un po' forte, di obbedire a ordini, scegliere di coprirsi dietro a Rera per ogni scelta non fatta non è più assolutamente condivisibile e noi da opposizione dobbiamo urlarlo a modo nostro, dirlo con gli strumenti democratici che abbiamo. Cambiamo argomento, parliamo di chirurgia laparoscopica mini-invasiva di ultimissima generazione, una metodica utilizzata in pochi centri in Italia, tra cui il gemelli molise Samantha Ciarla. Chirurgia laparoscopica sempre meno invasiva e con elevati standard di cura è l'ultima frontiera delle nuove tecniche operatorie che adesso si avvale di uno strumento altamente performante, la colonna laparoscopica utilizzata in pochi centri in Italia. Uno di questi è il Gemelli Molise, ospedale ad alta specializzazione con sede a Campobasso. Questo strumentario che è stato recentemente acquistato dal Gemelli Molise rappresenta quanto di meglio oggi c'è sul mercato mondiale ed è una colonna laparoscopica. Considerate che le pazienti che subiscono un intervento in laparoscopia, la sera stessa dell'intervento o il giorno dopo sono già in piedi. La colonna laparoscopica non è altro che un sistema di strumenti, si interfacciano tra di loro, c'è una telecamera ad altissima risoluzione che viene introdotta nell'addome della paziente attraverso un semplice buchino di un centimetro di diametro e questa telecamera è collegata con una serie di fonte luminose, di filtri e di computer che consentono al chirurgo di vedere in 4K, quindi con una risoluzione altissima e una magnificenza delle immagini veramente inimmaginabile fino a qualche anno fa. Ciò vuol dire che il chirurgo può osservare ad alto ingrandimento con un'ottima risoluzione anche le strutture anatomiche più piccole, quindi può lavorare con una precisione millimetrica asportando il tessuto che deve essere asportato e preservando invece il tessuto che deve essere preservato. Una colonna, spiega il professor Cosentino, che consente di lavorare anche in 3D con un'immagine quanto più realistica possibile, una metodica che pone in Gemelli Molise tra le eccellenze della chirurgia laparoscopica. Si stima che circa il 60% dei malati di tumore nel percorso di cura sia sottoposto ad almeno un ciclo di radioterapia, ma la radioterapia può causare effetti collaterali? A queste e altre domande risponderà la dottoressa Gabriella Macchia, responsabile dell'unità operativa radioterapia per fasci esterni, ospite in studio della puntata di oggi di un caffè insieme, lo spazio di approfondimento che Teleregione realizza insieme al Gemelli Molise dedicato ai temi della salute. Non perdete dunque questo importante appuntamento subito dopo il nostro telegiornale sportivo. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il meteo. Minima 2, massima 21, termoli minima 10, massima 16, venafro minima 4, massima 20 gradi. È tutto per questa edizione, linea alla regia, consigli per gli acquisti tra pochissimo la pagina sportiva. Restate con noi. Lo sport, il calcio di Lega Pro, domenica ultima di regular season per il Campobasso che ospiterà al Romagnoli il Potenza e da lunedì si parlerà di futuro, in particolare del futuro di mister Cudini e del DS Stefano De Angelis. Cala il sipario sulla stagione del Campobasso in terza serie dopo 30 anni di assenza e il sipario va giù tra gli applausi del popolo rosso-blu che si sta ancora gustando la salvezza condita da un calcio spettacolare con tanti gol ed emozioni. Domenica l'ultimo atto della regular season alle 17.30, il fischio d'inizio del match col Potenza che cerca il miglior piazzamento per i play-out. Sarà dunque gara vera da un lato il Potenza che vuole un risultato positivo, dall'altro il Campobasso che vuole congedarsi nel miglior modo possibile, vale a dire, con una vittoria e magari con il calcio offensivo che ha contraddistinto il cammino di rosso-blu. Da lunedì testa la prossima stagione e alle scelte che la società dovrà prendere. A partire dallo staff tecnico, voci attendibili riferiscono di un briefing tra la proprietà e mister Cudini. L'allenatore starebbe per spiccare il volo, sarebbe finito sul taccuino di formazioni ambiziose. Su tutto il Pescara difficilmente resterà in Molise dopo tre anni scintillanti caratterizzati da risultati a gioco. Dovrebbe lasciare il rosso-blu anche il DS Stefano De Angelis che insieme a Cudini è l'artefice del miracolo orchestrato da Mario Gesuè. La sensazione è che comunque ci vorrà del tempo prima di arrivare a delle scelte ufficiali. Cudini è ambizioso e non si accontenterebbe di lottare ancora per la salvezza di contro la società. E' sempre più convinta che l'elisir di lunga vita sia quello di continuare a puntare sui giovani senza andare dietro a spese folli, punti di vista difficili da far collimare. Andiamo in Serie D, parliamo del Vasto Girardi, primo dei quattro recuperi ancora da affrontare per la formazione alto-molisana. Domani pomeriggio calcio d'inizio alle ore 15 sarà di scena alla Riviera delle Palme a San Benedetto del Tronto per affrontare la San Benedettese. Ambe due le squadre sono al decimo posto in classifica a quota 39 per gli alto-molisani. Quello di domani è il primo di quattro recuperi ancora da affrontare in un ciclo di ben nove gare da sostenere in poco più di un mese con vista sui play-off. Lasciamo il calcio, occupiamoci di pallavolo, di pallavolo di Serie B maschile, match di recupero. Domani pomeriggio per gli Spike Devils Campobasso a Vazzieri. E i rosso-blu di Maniscalco se la vedranno con il Leverano. Ci riferisce tutto Vincenzo Ciccone nel suo servizio. Sentite. Una gara da vincere assolutamente per giocarsi le ultime chance resuide per accedere ai play-off. Nell'unico recupero ancora da disputare per il Gironelle di Serie B maschile di pallavolo, non entrare nel novero con avvio dei match in contemporaneo e gli altri due turni di regular season da completare, gli Spike Devils Campobasso domani sera, con primo servizio alle ore 19.30, si ritroveranno nello scenario del Palavazzieri per andare ad affrontare il Leverano. Match che, sino a qualche settimana fa, sarebbe stato sinonimo di prima posizione in classifica. Attualmente, invece, le due squadre sono all'inseguimento di un posto al sole che le possa portare tra le prime due che proseguiranno nel sogno verso la tre. Dalla sua, il tecnico Mariano Maniscalco ritrova un po' a tutti e potrebbe riportare a referto il libero Romagnoli, assente per infortunio nelle ultime settimane. Da definire così unicamente la conformazione, se c'è Costantucci da posto 4, oppure nelle vesti di libero. Per il vesto, invece, scelte bloccali, intorno alla diagonale, palleggiatore opposto, Parisi-Saraceno, al Rescignano laterale su attacco a 2 e dai centrali Picardo e Sulmona. Bene, davvero tutto. Anche con la pagina sportiva, grazie per aver scelto la nostra informazione e buona continuazione con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.